Il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, arriva a Napoli per firmare un protocollo d'intesa interforza e per fermare il fenomeno baby gang. Un intervento di contrasto inedito fatto di lettura organica sul territorio, fortemente voluto dal procuratore capo Gianni Melillo, che firmerà il protocollo con numero uno della Polizia Gabrielli, Vincenzo Rizzi, direttore dell'anticrimine, e i vertici dell'arma. Un approccio nuovo al fenomeno dal punto di vista di contrasto, indagine, lettura, mesi addietro Melillo. Spiegò all'allora ministro Minniti che dietro le baby gang ci sarebbero strutture ben organizzate, dotate di leader, a loro volta seguiti e rispettati in un vero e proprio organigramma di sistema. Un fenomeno da combattere dunque con concentrazione delle informazioni e costante coordinamento con la procura dei minori, così da consentire, secondo Melillo, specifici protocolli di investigazione e da indirizzare con efficacia le indagini, il tutto partendo dall'incrocio dei dati tra database e web. In serata Gabrielli sarà in prefettura per la definizione di un altro piano, sempre dedicato ai giovani, che prevede, come voluto dal questore dei ESO, che d'estate vengono impegnati in attività di svago e prendimento, così da tenerli lontani dalle strade, come avviene a Rione Sanità.